Quella del cacciatore di tesori è una vera e propria professione, almeno in certi stati. Ancora oggi infatti sono molte le persone che cercano di scoprire tesori perduti e magari preziosi. C'è ancora molto da scoprire e io sono qui per parlarvene. Benvenuti a X-Dimension, avventure nel mondo del mistero. Secondo gli studiosi, la maggior parte dei tesori e dei monumenti egizi sarebbe ancora da riportare alla luce. Sempre incredibile, viste le meraviglie che già sono state scoperte. Ogni giorno, archeologi e cacciatori di tesori indagano e scavano, alla ricerca di oggetti preziosi, testimonianza del passato. Il valore di questo oggetto infatti può essere reale, se si tratta di monili d'oro o d'argento, ma anche storico, culturale e artistico. La vera motivazione che dovrebbe spingere un vero cacciatore di tesori a scavare, dovrebbe essere non tanto arricchirsi, ma arricchire il mondo. Riportando alla luce opere e tesori che pensavamo fossero perduti per sempre. Mi vengono in mente alcuni esempi celebri, come il secondo libro della poetica di Aristotele, andato perduto alcuni secoli fa e al centro della trama di Il nome della rosa, di Umberto Eco. Oppure il manoscritto originale della Divina Commedia di Dante Alighieri, mai ritrovato. Noi, infatti, conosciamo l'opera soltanto grazie alle copie successive. Tra l'altro, la Chiesa perseguitò il sommo poeta negli ultimi anni della sua vita e bruciò alcuni suoi manoscritti, tra cui forse anche quello della commedia. O forse attende soltanto di essere riscoperto, chi può dirlo? Se parliamo di libri, dobbiamo considerare tutte quelle opere un tempo contenute all'interno della Biblioteca di Alessandria. In Egitto, era il più grande centro culturale del mondo antico e conteneva migliaia di volumi. Venne distrutta dai romani, dai cristiani e poi anche dagli arabi. Ora, al suo posto, sorge un'altra biblioteca, più moderna, ma niente e nessuno potrà restituirci tutto quel sapere. L'unica nostra speranza è quella di ritrovare qualcosa, come avvenne a Qumran dopo la Seconda Guerra Mondiale. Vennero scoperti casualmente in alcune grotte più di 900 rotoli di pergamene papiro contenenti i Vangeli Apocrifi, trascritti nel I secolo d.C. dalla Setta degli Esseni. Si tratta di una preziosa testimonianza dell'epoca. Un'altra scoperta, avvenuta casualmente, è quella che ha permesso di riportare alla luce i cosiddetti guerrieri di Terracotta, creati per sorvegliare la tomba dell'imperatore giallo, Jinshu Wangti, uno dei sovrani più potenti della Cina. Tra l'altro, venne seppellito all'interno di una piramide ancora da esplorare. Il governo cinese, infatti, non ha ancora permesso agli archeologi di scavare. Chissà quali meraviglie potremmo trovare all'interno di quella tomba. Leggende cinesi ci parlano di un grande tesoro e di un gigantesco plastico dell'impero cinese, solcato da fiumi di mercurio, elemento connesso al concetto di immortalità. A proposito di tombe perdute, ce ne sono due che ogni cacciatore di tesori vorrebbe ritrovare, ovvero quella di Alessandro Magno, che morì nel 323 al ritorno dal suo viaggio di conquista che lo portò in India, è la tomba del re etrusco Porsenna, descritta dagli antichi cronisti come una grande piramide costruita all'interno di un intricato labirinto sotto la città di Chiusi, in Toscana. Inutile dire che entrambe le tombe potrebbero contenere al loro interno un tesoro dal valore inestimabile. Se pensiamo ai tesori nascosti, però, la prima cosa che potrebbe venirci in mente sono i pirati. Ma non solo, a volte viene ritrovato il tesoro in qualche redditto in mare aperto. Si sa che i galeoni spagnoli nei secoli passati potevano trasportare molto oro, oro proveniente dagli Americhe, e in certi casi potevano anche affondare. Secondo le stime dell'UNESCO, sarebbero 3 milioni i redditti che ancora oggi giacerebbero sui fondali marini. E secondo gli esperti, uno di questi su mille nasconderebbe un tesoro dal valore inestimabile, almeno di 50 miliardi di euro. E parliamo di imbarcazioni di vario tipo, e di popoli differenti. Perché l'uomo ha sempre navigato nella storia. Ancora oggi, nel nostro piccolo, abbiamo l'istinto di nascondere i nostri valori per meglio custodirli. Nel corso dei secoli fecero la stessa cosa anche interi popoli, per motivi analoghi. L'oro è stato sempre considerato un metallo prezioso, perché è raro, così come l'argento e le pietre preziose. Per cui, da sempre si sono seppelliti tesori di valore. Nel mio libro, La ricerca della pietra filosofale, per esempio, parlo di alcuni tesori importanti da ritrovare anche qui in Italia. Il vero problema, però, è un altro. Nella nostra penisola ci sono troppi poteri forti, che impediscono la ricerca indipendente. Qui, i cacciatori di tesori sono considerati la stregua di tombaroli, così anche come chi usa il metal detector. E questo è un vero peccato, perché si sa che alcune grandi scoperte sono state effettuate da persone comuni per caso. All'estero, invece, i cacciatori di tesori sono più fortunati, e hanno meno problemi da risolvere, tant'è che per alcuni questo rappresenta una vera e propria professione. Infine, non possiamo dimenticare tutte quelle opere d'arte, trafugate durante le guerre e ancora oggi perdute. Forse solo poche persone ricorderanno Rodolfo Siviero, agente segreto e storico d'arte, attivo negli anni della Seconda Guerra Mondiale e negli anni seguenti, incaricato dal governo italiano di proteggere o recuperare tutte quelle opere d'arte trafugate dai nazisti durante la guerra. Fu un vero Indiana Jones italiano, e recuperò moltissime opere, tra cui anche l'Annunciazione del Beato Angelico. Ma il dipinto perduto dal valore maggiore è il concetto a tre, di Jean Vermeer, dipinto nella seconda metà del XVII secolo e rubato nel 1990. Il suo valore è stimato 200 milioni di dollari, ed è un vero record, tra quelli dispersi è considerato il più prezioso in assoluto. Lo andiamo a cercare? Articolo 932 del Codice Civile Tesoro è qualunque cosa mobile di pregio, nascosta o sotterrata, di cui nessuno può provare di essere proprietario. Il tesoro appartiene al proprietario del fondo in cui si trova. Se il tesoro è trovato nel fondo altrui, purché sia stato scoperto per solo effetto del caso, spetta per metà al proprietario del fondo e per metà al ritrovatore. La stessa disposizione si applica se il tesoro è scoperto in una cosa mobile altrui. Per il ritrovamento degli oggetti di interesse storico, archeologico, palletonologico, paleontologico e artistico, si osservano le disposizioni delle leggi speciali. Secondo queste leggi speciali, i beni archeologici presenti in Italia appartengono al patrimonio indisponibile dello Stato. E parliamo di beni provenienti dal sottosuolo o dai fondali marini italiani. Praticamente ciò significa che ogni reperto archeologico è di appartenenza dello Stato, a meno che non si dimostri in maniera schiacciante che il bene in questione sia di provenienza straniera. Tutto questo per garantire la salvaguardia del patrimonio storico-artistico nazionale. Quindi, a questo punto, conviene chiarire meglio il concetto di bene archeologico o culturale. Si tratta di tutte quelle cose mobili e immobili che presentano, secondo i criteri dati dalla normativa sui beni culturali, un interesse artistico-storico-archeologico, archivistico-bibliografico-etno-antropologico, nonché un interesse quali testimonianze aventi valore di civiltà. Detto ciò, se doveste trovare o ereditare qualcosa di antico o di valore culturale sarebbe subito da denunciare alle autorità. Naturalmente parliamo di scoperte fortuite e casuali, perché in via teorica non sarebbero permesse in Italia attività di ricerca mirate al ritrovamento di tali beni. Queste sono le leggi italiane. Ma all'estero le cose vanno diversamente. Ricordiamo il caso di David Boots, che nel 2009 trovò con un metadetector in un campo in Scozia un tesoro dal valore di un milione di euro, antico più di 2.000 anni. Il tesoro, pur avendo un valore archeologico, rimase a lui. Proprio come avviene in Italia, non trovate? Anche altri ebbero la sua stessa fortuna. Perry Close trovò in Inghilterra un tesoro composto da monete d'oro e d'argento, gioielli e altri oggetti antichi, per un valore complessivo di 3 milioni di dollari. Se non volete scavare perché lo trovate faticoso, potreste tentare la fortuna in qualche mercatino dell'usato. Un certo Michael Sparks comprò per 4 dollari in un mercatino una pergamena raffigurante una copia della dichiarazione di indipendenza e la rivendette a 2 milioni e mezzo di dollari. In un altro caso, un uomo di nome Terry Horton recuperò un quadro per pochi dollari. Solo in seguito si scoprì che si trattava di un quadro di grande valore, del pittore Pollock, e ricevette offerte di milioni di dollari. Dopotutto si può anche dire che, a volte, il più grande tesoro potremmo già avercelo sotto il naso. Aspetta soltanto a noi riconoscerlo e saperne apprezzare il valore. Se volete partire alla ricerca di tesori nascosti, vi consigliamo di leggere La ricerca della pietra filosofale, in cui ho raccolto una lista di tesori ancora da ritrovare in Italia. Eremon Edizioni Inoltre, alla ricerca dei tesori sommersi di John Wright e le isole dei tesori perduti di John Wright e Cameron Platt, entrambi pubblicati da PM Editori. Inoltre, alla ricerca dei tesori sommersi di John Wright,